Gli abitanti di strada 9 Praiola chiedono all'amministrazione comunale ripostese interventi per consentire l'accesso alle abitazioni dopo che la violenta amareggiata ha reso la via impercorribile. Il servizio di Maria Bella. Protestano i residenti di strada 9 Praiola nella frazione marinara di Riposto per i mancati interventi dopo la violenta amareggiata che ha reso praticamente impossibile l'accesso nelle abitazioni. La violenza delle onde ha trasportato su quella che era la strada, pietre e detriti. Il resto lo hanno fatto le acque scese giù dal letto del torrente. A ciò si aggiunge anche l'assenza di pubblica illuminazione. Gli abitanti chiedono che si intervenga con una ruspa per consentire quantomeno un ritorno alla normalità. Voi abitate qui, l'accesso è davvero divenuto impossibile? Impossibile, tante volte l'abbiamo già stato noi a spese nostre. Il comune a volte lo chiamiamo, sì 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 e passano 15 anni, 20 anni e l'abbiamo fatta a spese nostre. Ora però qua è una spesa, è un lavoro molto grosso, quindi è solo l'intervento del comune, per forza. E ora facciamo viaggi, purtroppo oggi stamattina qua c'è stato l'assessore, l'ingegnere. Sì sì sì, però mancano i soldi, ma mancano i soldi, a milità si pagano. Come si vede oggi è praticamente inaccessibile la zona. Oltretutto è da sabato che siamo completamente al buio, quindi si figura i residenti che abitano qui devono lasciare la macchina all'altra parte, passare in questa zona che è pericolosa, completamente al buio. Verrà fatto un intervento di emergenza intanto? Non ci hanno detto niente, loro vogliono presentare un progetto per fare un bonde su questo torrente, però io penso che passeranno anni prima che facciano questo. Una situazione che perdura ormai da anni e che necessita di soluzioni durature, di certo non immediate. Ci sono a livello comunale due stradelle parzialmente private che potrebbero essere ricongiunti con la praiola nuova cosiddetta strada larga e asfaltata, quindi a livello comunale. Però questo che implica che la strada che fiancheggia la pioggia resta nelle condizioni in cui è, quindi bisogna in ogni caso intervenire anche là, perché ogni volta o che c'è una mareggiata o che c'è un diluvio e quindi scorre i torrenti, la si interrompe e noi non possiamo più andare nelle nostre proprietà, nelle nostre case. Con rischio, sia che se per caso ci sentissimo male all'improvviso, mentre piove, restiamo isolati, non possiamo essere raggiunti né da eventuale autoimpulanza, né da vigile del fuoco o da altro. Non parliamo poi che ognuno che vuole venire nella propria casa, non so, per un fine settimana, è impedito a farlo perché non può permettersi di farlo. Se piove alla notte si resta assolutamente isolati.